Questa mattina mi sono alzato, oh bagiaccia, oh bagiaccia, oh bagiaccia. Una marcia funebre per celebrare la morte della splendida Baia di Porto Migiano, interdetta ai bagnanti a causa del sequestro disposto dalla Procura per presunti danni ambientali e lecito edilizio. Insieme al De Profundis del turismo, in caduta libera nelle strutture circostanti, messe in ginocchio dalla chiusura dell'incantevole caletta, rinforzata con cancello e blocchi di cemento per impedire che i sigilli continuassero ad essere violati. Per questo il Comitato Custodi della Baia di Santa Cesarea ha inscenato la singolare protesta, rimendicando il diritto dei cittadini di accedere alla spiaggetta, diritto che a loro dire non interferirebbe in alcun modo con il prosieguo delle indagini. L'accesso al mare con l'asciugamani o con l'ombrellone o con la borsetta della signora non deturpa nessuno scoglio e nessun pezzettino di sabbia. Senza contestare per carità il diritto, dovere anzi della magistratura, di accertare eventuali responsabilità penali, mi sembra che non si sia tenuto conto delle ragioni di pubblica utilità come normalmente avviene anche nei processi penali. In corteo turisti, bagnanti e operatori turistici hanno raggiunto l'ingresso sbarrato e gettato in mare in una bottiglia le 2000 firme presentate già lo scorso anno a sindaco e prefetto e completamente ignorate, mentre gli albergatori lanciano l'allarme. Ovviamente le liste solamente sono la punta dell'Eismert, ma tante persone non hanno proprio prenotato in funzione di questo disguido e di servizio che c'è a Santa Cesarea Terme.